Non c'è la carta? Che fai? C'è la visa che presenta alla report che è passato al paese è la carta dei miei padri che tutti danno il permesso per poter andare la visa è quella è tipo la carta verde ci stai distretto? ci stai distretto infatti è che il fratello è soledad quando scuola no ora quest'anno passato mi vado per vencida quindi Dari ha coglido il mio plato e continuo a ella mamma Gonzalita qui sta mamma d'Italia questa eh non ci stai no ti lo vas a acabar tutto no corti male no ti lo vas a acabar si tutto grazie 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 no, si, perché l'italiano è grazie e adesso mi sale una parola mesclata con l'italiano spagnolo c'è tanto un poco? c'è tanto un poco ah, ma proprio è tutto tagliato no, è tagliato è tagliato la prossima volta pure a me io non pretendo sarà fatto no, mi disse Franci che la prossima veste è tagliato me l'ho curto che stai comendo? Gina è autosufficiente anche così scave foto con me ah no, no mmm no grazie 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 grazie